segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e poi c'è la terza ipotesi la terza ipotesi è che i dei gruppi di neofascisti lo abbiano ucciso per le sue idee la seconda e la terza non necessariamente sono in contraddizione possono essere legate mentre per me è più difficile pensare che la prima e le altre possano essere legate la seconda e la terza sono più probabilmente legate tra di loro lui aveva scritto l'articolo sul corriere della sera io so era omosessuale era già da tempo nel mirino per le sue posizioni per le cose che diceva avevamo fatto insieme pochi mesi prima che lui fosse ucciso una manifestazione a piazza di spagna lui ed io contro la condanna a morte di un ragazzo nella spagna franchista insomma pasolini era era nel mirino era nel mirino e probabilmente i famosi garrotati di burgos erano i garrotati era manuel puig si chiamava il condannato no perché c'era anch'io la manifestazione vedi erano gli anni in cui gruppi di neofascisti lavoravano anche per conto terzi diciamo così diciamo diciamo che erano gruppi di neofascisti che proprio storicamente si mescolavano anche alla criminalità comune è certo e tutte e due lavoravano spesso per conto terzi come agenzie di esecuzione di no ci sono molti molti casi però ecco io penso che le ipotesi ovviamente speriamo che adesso la magistratura sulla base della riapertura le accerti però l'unica certezza è che pelosi non era da solo chi ha conosciuto pierpaolo sa che fisicamente pelosi un ragazzino di 17 anni non poteva fargli quello che poi abbiamo visto nelle immagini pubblicate dall europeo del suo corpo ti ricorderai no e quindi è chiaro che le cose sono andate in un altro modo e pelosi si è portato nella tomba questa verità che però quella sera venne a dire venne a dire venne perché venne perché decise di entrare diciamo non essendo invitato poteva stare tranquillamente a casa poteva starsene a casa sua invece venne e resse una intervista che io gli feci poi c'era avvocato maccioni e c'erano altri e e lui appunto mi sembra un uomo spaventato ancora spaventato credo che la paura sia stato l'elemento di tutta la sua vita c'è c'è siccome è chiaro che pelosi non fosse da solo però com'è possibile che le indagini all'epoca perché l'idea diciamo è che questo complotto sia un po più ampio nel senso che da una parte c'è tutto quello che riguarda la partecipazione di altri che è stata in qualche modo nascosta non è venuta fuori nessuno si è speso più di tanto per cercare di capire identificare chi altri fossero all'idroscalo e però c'è anche diciamo una parte istituzionale che non ha fatto forse fino in fondo il suo lavoro erano anni perché bisogna contestualizzare no stiamo parlando del 1975 75 75